Un agosto particolarmente difficile, quello che si sta vivendo in molti ospedali della nostra regione a lanciare l'allarme. Il segretario regionale del NURSIND, Gian Paolo Giannoni, il problema principale riguarda la carenza di personale che finisce per mettere in crisi da una parte i sanitari e dall'altro la qualità dell'assistenza erogata alla cittadinanza. In questo quadro, spiega Giannoni, la grande assente è la regione che non ha mai dato seguito alle nostre richieste sulle assunzioni, sull'adeguamento delle tariffe per le cosiddette produttività aggiuntive, sulla prescrizione infermieristica e sul 118. Silenzio su tutta la linea con il personale infermieristico che è comprensibilmente sempre più stanco, demotivato e arrabbiato. Siamo in stato di agitazione, ad Arezzo ad esempio è stato proclamato quasi un mese fa e siamo molto preoccupati. Se le cose dovessero rimanere così, il rischio è che tanti servizi dopo l'estate non possano riaprire. In particolare, nella Retino, lo stato di agitazione è dovuto a carenze di personale alle quali si vanno ad aggiungere spostamenti e disagi per i sanitari a causa del caldo eccessivo all'interno dei reparti degli ospedali del Casentino e della Valtiberina.